Come installare Fortnite su telefono? Ovviamente è un passaggio semplicissimo, quindi ti ho lasciato in descrizione il link che ti porterà sulla pagina questa qua, quindi puoi anche scrivere Epic Games APK, clicchi così il terzo, come ho detto c'è il link in descrizione, Fortnite di Epic Games. Quindi noi dobbiamo prima installare il launcher di Epic Games, una volta installato così l'Epic Games possiamo installare Fortnite senza nessun problema e procediamo così all'installazione di Epic Games. Lo scarichiamo, diamo così il consenso così a questo origine, installiamo Epic Games, poi una volta installato entriamo nella sua applicazione, scegliamo il nostro gioco da installare e installiamo Fortnite. Facciamo apri, scansione di sicurezza per vedere se ci sono problemi, non c'è nessun problema, ecco qua, non c'è nessun problema, facciamo apri ed ecco Epic Games. Ecco Fortnite, eccolo lì, Fortnite e facciamo install. Facciamo anche il consenso a Epic Games di installare queste applicazioni sul nostro telefono e installiamo Fortnite. Ok, eccolo qua, devo fare un aggiornamento, quindi dimensione dell'aggiornamento di 14 Gb, quindi aspetto così. l'aggiornamento da fare. Una volta finito l'aggiornamento te lo installerà. Connessione in corso. Connessione in corso. Grazie. 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 E ecco la parte più importante. Hai già un account oppure non hai un account, quindi dobbiamo crearci il nostro account. Puoi anche connettere il tuo account Google all'account Epic Games. Io così ho fatto con il mio account Google. così da pc poi continua anche sul telefono ok quindi ho tutti i miei account sia sul pc e sul telefono un account collegato qui mettete grafica ridotta per telefoni di fascia bassa o media per quelli che hanno veramente un buon telefono per giocare per giocare mettete grafica elevata ed ecco a voi fortnite su telefono fortnite funziona è avviato il telefono però il problema è che mi lagga un po quindi se andiamo su impostazioni io metto 30 fps configura un po la grafica imposto qua imposto la eseruzione 3d metto a 50 per cento faccio applica e vedo se posso farmi una partita senza laggare quindi se questo video è stato utilissimo come installare fortnite su telefono facile veloce iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao